Buongiorno, ben trovati. Appuntamento di giovedì 23 marzo con Mattino Sela, consueta rassegna stampa della nostra rete. Oggi si ricorda San Turibio, Vescovo della Chiesa Spagnola. Apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani. Partiamo dalle quattro edizioni del centro e iniziamo dalla prima pagina dell'edizione del centro di Pescara. Eccola qui il titolo principale riguarda il mare sporco perché ci sono due indagati all'ACA, e i dirigenti sotto accusa per gli sversamenti di liquami nel fiume. La fotonotizia riguarda invece l'attacco terroristico di ieri a Londra. Quattro morti nei pressi del Parlamento londinese. Auto sulla folla e sparatoria proprio nei pressi del Parlamento. Allarme in tutta Europa, è stato anche ucciso l'assalitore, l'attentatore di questo fatto davvero increscioso e che fa crescere l'allarme, come leggiamo anche qui dalle pagine del centro, in tutta Europa. E poi vediamo le altre notizie. Ieri in Abruzzo a Pescara la visita del ministro delle politiche agricole Martina, che dice piano di interventi per l'Abruzzo, ha parlato anche del post-terremoto e degli aiuti per le aziende agricole, le tante aziende agricole colpite in maniera pesante proprio dal terremoto, ma anche e soprattutto dall'ondata di maltempo del gennaio scorso. Vediamo anche gli altri titoli. Pescara, porto bloccato in 50, rischiano il licenziamento, l'ennesimo grido d'allarme che arriva dagli operatori commerciali del porto. E poi, sempre a Pescara, un arresto, studentessa molestata sul treno, è stata molestata da un giovane africano che è stato poi bloccato dagli agenti della Polfer. In basso si parla di calcio del Pescara, il peso dei contratti, 50 giocatori sotto ingaggio, sotto contratto con la società Bianca Azzurra, alcuni con contratti sicuramente onerosi. E in queste ore Zeman riflette sul futuro, approfittando anche della sosta del campionato, perché domenica non si giocherà per gli impegni della Nazionale, che domani sera affronterà Palermo, l'Albania. E poi Taranto, calciatore abruzzesi aggrediti dagli Ultras. Davvero è accaduto qualcosa di incredibile ieri a Taranto con gli Ultras, che hanno inseguito i giocatori del Taranto, che sono riusciti a rifugiarsi negli spogliatoi. Fra questi anche due giocatori della nostra regione. Poi vedremo all'interno cosa è accaduto ieri proprio nella città ionica. Andiamo avanti, l'edizione del centro di Chieti. Chieti, pedofilia, arrestato un allenatore. Lo accusano tre ragazzini del baseball, gli approcci nell'auto. E poi, ancora Chieti, cade dall'albero. Muore settantenne Teatino dopo due giorni di ricovero in ospedale. Sempre a Chieti, addio a Marciani. Fu anche Mastro Giurato, in questo caso parliamo anche dell'area Frentane, dunque di Lanciano. E poi, progetto da 50 milioni, nasce un sensore di luce nel cuore del Gran Sasso. Si parla anche di turismo, turismo in Abruzzo, perché il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, con delega al turismo, convoca 200 tour operator e a ruolo ambasciatori per il rilancio turistico della nostra regione. Poi Vasto, chiuso il cavalcavia sulla A14. Infine Casalbordino, il cinghiale va a spasso lungo la rivera, accaduto nei mesi scorsi anche in altre località rivierasche della nostra regione. E siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. Abusi del branco su una tredicenne. La ragazzina denuncia circondata e palpeggiata da alcuni coetanei. C'è un'indagine. E poi vediamo le cronache. Calamità alzata alla soglia dei rimborsi per le aziende. Poi a Montori Alvomano cade trave, paura davanti al municipio. E poi in basso, odissea di un Teramano salvato da una malattia rara. Paziente segue a Carpi, il medico andato via dall'ospedale Mazzini. Infine Roseto, albergatori spaccati, cimorosi. Si dimette. E siamo alla pagina dell'Aquila, del centro. Il titolo principale riguarda in questo caso la politica, le amministrative primarie. Una poltrona per tre. L'Aquila, Pietrucci, Di Benedetto e De Santis, aspiranti candidati sindaci. In questo caso del centro-sinistra. Ancora l'Aquila, crollo mortale, processo verso la prescrizione. E invece ad Avezzano, presutti, tasse ridotte, soliti annunci. E poi in basso, andiamo ad intro d'acqua. Cedimento del palasporto e nove indagati, coinvolti sindaci e tecnici. La difesa dice accusa ingiusta. E poi il calcio di Serie D con l'Aquila. In questo caso l'Aquila punita dal giudice sportivo. Domenica prossima giocherà la gara di campionato a porte chiuse. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Pedofilia, allenatore in manette. Chieti, uno cinquantenne istruttore di baseball accusato di violenza su tre mini atleti. E poi a terra, o invece una ragazzina di 13 anni, denuncia costretta a spogliarmi. Dai compagni in alto, programmi dell'Unione Europea Welfare, scontro sui fondi. Ieri c'è stata una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle che accusa la regione di immobilismo. Vedremo poi il servizio più avanti. E poi il titolo di spala con corredo di articolo. Depurazione Cella Abruzzo tra le regioni in maglia nera. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città, abusata dai bulli in pizzeria, 13enne terramana spinta in bagno, denudata e fotografata da sei coetanei identificati e denunciati. Lasciamo dunque per il momento la cronaca della nostra regione. Abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ora, come sempre, possiamo andare a dare uno sguardo invece ai quotidiani nazionali. Dunque l'edicola nazionale per vedere tematiche che riguardano il nostro paese e anche la cronaca estera. Partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente tutti i titoli di tutti i quotidiani oggi sono incentrati sull'attacco terroristico di ieri a Londra. Londra, attacco al Parlamento, auto sulla folla, coltellate ad un poliziotto, 4 morti, 40 feriti. Attacco al Corre di Londra, Westminster, terrorista, falcia alla folla con un SUV e accoltella un agente. Prima di venire ucciso. Londra, morte al Parlamento, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. La me in salvo, il giallo dell'attentatore, poi ucciso. Non identificato, in alto, vediamo un titolo che riguarda la politica di casa nostra. Il PD si rimangia le promesse e vota per salvare i vitalizi, scrive il Fatto Quotidiano. Il messaggero di Roma, strage annunciata, smacco agli 007. E poi, vediamo qualche altro titolo, Roma off limits, sale l'allerta, Mattarella, Unione Europea, serve coraggio, trattati d'Europa, manifestazione che si terrà a Roma, da parte, è stata già annunciata da diversi giorni. Ovviamente c'è allerta proprio per l'ordine pubblico nella capitale. Proseguiamo. La stampa di Torino, Giad, attacco a Londra, con l'auto contro la folla sul ponte di Westminster, poi con il coltello contro gli agenti. Siamo a Libero, Europa in ginocchio, scrive Libero. La Turchia vuole ammazzarci e l'Italia prepara il funerale. Poi anche sul Libero ritroviamo le notizie sull'attentato di Londra. Terrorista islamico fa una strage a Londra. L'Unità, costretti a vivere da bamboccioni, i giovani devono arrivare a 40 anni per potersi costruire una vita autonoma. Dai genitori fra gli under 30, meno del 29% lavora e la diseguaglianza anagrafica cancella il loro welfare, scrive l'Unità. Siamo al tempo, Bing Bang, auto sulla folla e sparatori a 4 morti e 20 feriti a Westminster. Proseguiamo il mattino di Napoli, il terrore nel cuore di Londra, attacco al Parlamento con un SUV contro la folla, 4 vittime, ucciso l'assalitore. E poi anche sul mattino ritroviamo il titolo riguardante la questione Vitalizi, prelievo una tantum, rivolta grillina alla Camera. Poi c'è l'intervista con il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che dice Europa decisiva per il Sud, basta clientele nell'uso dei fondi. Il giornale Islam ci rifà la festa, alla vigilia del compleanno dell'Unione Europea, un jadaista già noto a Skodandjard falcia alla folla con un SUV. E poi corteo di Roma, l'ordine segreto, la polizia non reagisca, scrive in questo titolo in basso il quotidiano. Il giornale Siamo all'Avvenire, il giornale invece della conferenza episcopale italiana. La democrazia nel mirino, il titolo principale in alto, attacco al Parlamento più antico, 4 morti a Londra e sull'Europa minacce di Erdogan, nessuno al sicuro. E poi in basso c'è un titolo che riguarda un'intervista all'interno del giornale all'ex premier Matteo Renzi che dice ora sostenere le famiglie con figli. Siamo alla Gazzettino di Venezia, attacco a Londra, terrore e morte con l'auto falce pedoni, poi tenta di entrare in Parlamento. Il manifesto, vedete il titolo, nel cuore di Londra, il titolo con corredo di foto, terrore davanti al Parlamento inglese. Nel giorno dell'anniversario della strage di Bruxelles. E siamo al secolo XIX, il quotidiano di Genova, attacco a Londra, torna l'incubo, 4 morti, l'Unione Sarda, Londra un attacco al cuore. E poi vedete a centro pagina invece un articolo con una storia, foto, vittima dei bulli, li ho sconfitti, scrivendo un libro a quarto Sant'Enera, la vita di Erika. Ricomincia a 16 anni. E poi vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno, in alto Londra sotto attacco, auto sulla folla, poi l'assalto tentato Westminster a centro pagina. Invece rissa alla Camera sui vitalizi, i democratici dicono metodi violenti, Di Maio del Movimento 5 Stelle, ora so che andremo al governo, dice l'esponente pentastellato. E siamo al quotidiano La Verità, a processo profumo e le nomine di Renzi, scrive La Verità. Continua l'occupazione del potere. Poi vedete più in basso la foto con questo titolo, la Boldrini litiga con le femministe per difendere l'utero in affitto. E poi a centro pagina, titolo forte sull'attentato di Londra, i bastardi attaccano Londra, trema l'Italia. L'ultimo titolo era questo per quanto concerne l'edicola nazionale. Noi però restiamo ai giornali nazionali, come sempre, per andare a vedere anche i titoli dei quotidiani sportivi nazionali, tre quotidiani sportivi. Oggi in edicola partiamo dalla Gazzetta dello Sport. La Serie A si spacca ma l'Europa ci premia, i soldi delle TV paralizzano la Lega. La Serie A ufficiale, quattro italiane in Champions League dal 2018-2019. Una bella notizia per le big del nostro calcio. Vedete anche sulla Gazzetta in alto, al tacco a Londra, ho visto la morte davanti a me, una testimonianza di chi era presente ieri al momento dell'attentato. E poi vedete più in basso, Iguain e Messi, amici nemici, oggi coppia in Argentina ad aprile, divisi da Juventus, Barcellona. Siamo al Corriere dello Sport, io e Belotti, gemelli mondiali, Immobile accende, i sogni azzurri. Il bomber della Lazio sfida l'Albania e punta sul super tandem d'attacco con Gallo, ovvero Belotti. C'è un'intesa perfetta, dice Immobile, siamo amici sul serio, vogliamo portare l'Italia tra un anno in Russia. E poi ancora in basso, 20 milioni in 5 anni per Bernardeschi, Viola, dunque la Fiorentina blinda il suo gioiello. Milan è versato dai cinesi, un acconto a Berlusconi, bonifico di 20 milioni di euro. E poi ritroviamo la notizia riguardante l'aggressione, l'attentata aggressione dei tifosi del Taranto e giocatori della formazione Rosso-Blu. L'abbiamo visto dal centro che tra questi giocatori ci sono anche due abruzzesi. Incredibile, 30 incappucciati piombano al campo e picchiano i giocatori. Gravina, adesso Penedure, dunque c'è stata un'aggressione vera e propria. Davvero Taranto sotto shock per questa azione a questo punto premeditata dei tifosi nei confronti della squadra, dei giocatori della formazione Tarantina. Chiudiamo con tutto sport, Buffon la chiappa talenti, il suo carisma attira gli assi emergenti verso la Juventus. L'ultimo è Bakpè. E poi Clossi ingarrate, il Milan dice no, dunque ancora problemi per l'ingresso ufficiale dei cinesi nel Milan Calcio. Noi possiamo a questo punto tornare a dare uno sguardo, a leggere in maniera più dettagliata i quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal centro, abbiamo visto i titoli delle quattro edizioni, possiamo andare all'interno per vedere le pagine del giornale Oggi Nedicola. Pagina 2 si parla di questo attentato, Europa sotto attacco con questi quattro morti, vittime del killer che con un SUV ha falciato la folla presente. Comunque le persone che erano presenti a Westminster, killer che è stato poi ucciso. Andiamo avanti, arriviamo alla pagina che riguarda la massima allerta anche a Roma, Italia in allarme. Minniti, ministro degli interni, convoca il comitato antiterrorismo, capitale blindata per l'anniversario dei trattati europei. E siamo alla pagina del, le pagine abruzzesi del centro. La prima pagina in questo primo piano riguarda il pianeta di Sabili e di Tagli in Abruzzo, 4 milioni in meno per trasporti e assistenza. Il governo chiude i rubinetti. La regione è costretta a compensare le minori entrate anche per il caos nelle province. In cassa solo 240 mila euro per ciechi non udenti. E poi in basso questa testimonianza di Severino. Severino si batte per l'assistenza sessuale. La denuncia del malato contro la politica. La deputata del PD Argentina, la mia proposta, è ferma. Al palo. E poi ancora storie che riguardano i disabili nella nostra regione. La storia di Vasto. In questo caso mamma operata e dimessa, mia figlia, dice non può stare sola. La donna costretta ad entrare subito a casa dopo l'intervento per un tumore per assistere la ragazza tetrapelgica e cieca. E poi insegnanti di sostegno. Sono 4 mila, ma ne occorrono molti di più e in tanti sono dirottati al nord. Poi Abruzzo e omofobia. Attivista lesbica a scuola, l'incontro diventa un caso. L'iniziativa a Lanciano apre il dibattito in regione sulle discriminazioni tra polemiche e cortei, studenti e professori divisi sulle differenze di genere. E poi in basso, a Pescara e scontro sui transgender, la lezione organizzata dall'Arcigay apre il confronto sul tema della famiglia. E poi, ancora su queste tematiche, dice l'Arcigay, il distorto moralismo devia la società. E poi c'è l'intervista alla scrittrice omosessuale Francesca Vecchioni che dice «Raccolgo l'SOS di Lanciano, qui c'è bisogno di dialogo sul mio arrivo». Dice «Non vedo spaccature, ma una necessità di coinvolgimento, perché non si può più avere paura di tutto. Nella vita e poi in basso, chi critica a mentalità giurassica il ruolo dei docenti e genitori, secondo l'esperto in tutela dei diritti fondamentali». Andiamo ancora avanti, queste sono pagine di cronaca nazionale. Torniamo in Abruzzo per questa pagina dedicata all'intervista al Ministro dell'Agricoltura Martina, ieri a Pescara. Martina ha parlato anche di rimborsi per il sisma a sostegno della ripresa, ha detto il Ministro, previsti 35 milioni di euro per il mancato reddito. E sul PD il Ministro Martina dice «Il ticket correnzi, pluralità e unità possono stare insieme». Andiamo avanti per arrivare ancora ad un'altra pagina di cronaca regionale dal centro. Lolli, a ruolo ambasciatori per il rilancio del turismo, dai dipendenti delle multinazionali agli studiosi dei laboratori del Gran Sasso. Dal 30 marzo all'Aquila, oltre 200 tour operator dei maggiori consorsi europei. Proseguiamo. Nasce un sensore di luce nel cuore del Gran Sasso, progetto da 50 milioni e nuovi posti di lavoro per lo studio della materia oscura. Il vice governatore, dice il soggetto attuatore, è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dunque un'altra scoperta nel cuore del Gran Sasso, nei laboratori del Gran Sasso. Cambiamo poi argomento, vicenda dell'Acqua Santa Croce, concessione aggiudicata alla Norda, al gruppo della Norda. Colella, l'ex amministratore, prepara il ricorso. Vedete questo titolo di spalla sul centro. E poi invece parlando di fondi europei, ieri il Movimento 5 Stelle ha parlato di mobilismo della regione, con 370 milioni di euro di fondi europei bloccati. La replica della regione, tutto sotto controllo. Noi andiamo ad ascoltare proprio Sara Marcozzi, capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle. Consigliera Marcozzi, si parla di bandi regionali. Voi avete qualcosa da ridire alla regione, in particolare al Presidente D'Alfonso. Perché? Beh, è l'Abruzzo che ha qualcosa da ridire al Presidente D'Alfonso. Perché parliamo di fondi FESR ed FSE, una dotazione di 370 milioni di euro. Ad oggi sono stati pubblicati bandi per soli 46 milioni. Ricordo che il Direttore Generale della regione, quindi la regione, aveva promesso la pubblicazione entro il marzo 2017. Quindi ci siamo di bandi per almeno 186 milioni. Quindi siamo in forte ritardo. Le promesse di una regione facile e veloce sono evidentemente andate in fumo. Quello che noi chiediamo è la pubblicazione immediata di tutti questi bandi per non perdere le risorse da parte dell'Europa. Andiamo avanti, cambiamo ancora argomento. Iniziamo con le cronache delle province. Partiamo da Pescara, acqua sporca, l'inchiesta, mare inquinato e liquami indagati, vertici dell'Aca. Gli inquirenti, mai usate le vasche costruite per evitare sversamenti nel fiume. E poi in basso, sequestrata discarica di Ethernet, l'operazione della guardia costiera a Pescara. E poi dal Ministero il primo sì al piano per salvare il mare. Ci sarà un incontro a Roma. Padovano dal Vice Ministro Nencini per parlare delle barriere anti-inquinamento. E poi Museo del Mare in stato di degrado, sopra il luogo della Commissione, nell'edificio, spuntano in tonici sbriciolati e rifiuti. Andiamo avanti, problemi del porto bloccato. Di Properzio dice, a rischio 50 posti di lavoro. L'imprenditore pescarese, leader nella distribuzione del gas via mare, tuona sui ritardi della politica. E poi in basso, raccolta di mille firme contro la pista, residenti inferociti per il tracciato ciclopedonale che cancella i parcheggi. Proseguiamo con la truffa del resort. Contestata una banca. L'imprenditore pescarese, che ha perso 140 mila euro, chiede alla Procura di approfondire l'operato di una banca. E poi furgone in fiamme. Cronache sempre da Pescara. Danneggiate due auto. Si indaga sull'incendio in via Imele a Rancitelli, rogo notturno, in un appartamento di via Gioberti. Gli incendi spenti dai vigili del fuoco. E poi in basso, domani in municipio, ci sarà un convegno oncologico. Mentre il coro da camera di Torino sarà a San Cetteo per un concerto. Proseguiamo. Studentessa pescarese è molestata sul treno. Gli agenti della Polfer notano la ragazza in difficoltà e bloccano un nigeriano di 25 anni. L'accusa è violenza sessuale. E poi, dopo aver visto le pagine sulla guida alle pensioni, arriviamo ancora a un'altra pagina che riguarda la cronaca di Pescara. Non ho abbastanza soldi per far curare mia figlia. Papà denuncia la condizione della sua bimba undicenne che ha bisogno di assistenza. L'EM dell'Associazione Alba dice che in Abruzzo queste terapie dovrebbero essere gratis. E poi la Casa dei Sogni, bloccata da una firma in basso in mille per il grande abbraccio nella giornata mondiale dedicata ai ragazzi down. E poi un appuntamento di solidarietà, di beneficenza con il magistrato Gennaro Varone, che sarà al Flaiano con la sua bende per aiutare l'Associazione Amico. E siamo alla pagina dell'area metropolitana. Partiamo da Francavilla, via Roma. Ora la strada è stretta e pericolosa. Partiamo da San Giovanni Teatino, dove divampa sui social la polemica sulla riqualificazione della centralissima arteria di San Buceto, con carreggiata scarsa e auto in soste. E poi in basso ancora San Giovanni Teatino, via libera e vigili urbani armati. Infine Francavilla, condominio senza acqua per pochi inquilini morosi. Siamo a Montesilvano, i tartassati, semafolo trappola, multe alte anche per il cambio di corsia. La rabbia degli automobilisti costretti a fare ricorso contro il comune cittadino sanzionato sei volte. Va dal giudice, la segnaletica dice è carente. E poi il lavoro al Parco Falcone, il Movimento 5 Stelle contro il sindaco Maragno, ora inutile. La pista tricolore. In basso la massoneria. Si raduna a Montesilvano per tre giorni, l'incontro internazionale delle loggie. E poi i banchieri e i docenti invece in un convegno parlano della finanza innovativa. Siamo ancora alla pagina dell'area metropolitana, sempre a Montesilvano, azienda speciale, fioccano le cause dei dipendenti. E poi a centropagina, case Ater, rimossi i rifiuti. In strada, in basso, giardini pubblici e privati, domande possibili. Fino al 31 marzo. E poi a spoltore, caccia di turisti, arrivano i tour operator anche nel centro, in provincia, di Pescare. Siamo alla pagina di Penne, di Popoli e dell'Alta Val Pescara. Partiamo da Popoli. Da Roma, 550 mila euro per i lavori nelle scuole. Il Ministero dell'Economia offre spazi finanziari per Popoli. E Manoppello. E poi a centropagina, il Consiglio regionale approva la legge con il riconoscimento di Penne. Città degli Arazzi. In basso, città fuori dal cratere. Si parla sempre di Penne. Via la protesta. Sospire attacca il governo per l'esclusione di Penne, Civitella e Catignano. E annuncia manifestazioni. Siamo alla pagina di Chieti. Violenza sui minori. Pedofilia. Arrestato allenatore. L'accusa. Abusi sessuali su tre ragazzini del baseball. Approcci che sarebbero avvenuti in auto. E poi la cronaca. Ancora cade dall'albero. Muore dopo due giorni. La tragedia di questo pensionato settantenne di Chieti. Vincenzo Coccia. Che non ce l'ha fatta. In basso, l'addio a Marciani. Iscrittore amico di Pannella. Muore a 73 anni. L'ex dirigente della regione. Pioniere dei radicali. E mastro giurato a Lanciano. Siamo alla pagina dell'Aquila e del centro. Le primarie del PD. Tre nomi per il sindaco a Pietrucci. E di Benedetto si aggiunge un terzo candidato. De Santis. Dell'IDV. In basso, crollo con 13 vittime. Rischio prescrizione. Lunedì giudizio d'appello. Ma ad otto anni del terremoto il tempo è scaduto. Beffate le parti civili. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Calamità e aiuti. Danni indiretti. La Camera alza la soglia dei rimborsi. Continua il voto degli emendamenti al decreto sisma. Buona notizia per le imprese. Arrivano 3 milioni per la casa dello studente. Non c'è speranza di allargare il cratere. E poi Montorio. Cade trave dal municipio. Sfiorata la tragedia. In basso, la denuncia ai carabinieri. Il branco palpeggia una tredicenne. Un gruppo di coetanei blocca la ragazzina dopo una festa. E poi malattia rara. Paziente salvato a Carpi dal medico. Andato via dall'ospedale Mazzini. Siamo arrivati alle pagine della cultura e dello sport. Possiamo dunque fermarci. Almeno per quanto riguarda il centro. E anche per quanto concerne la nostra rassegna. Ci fermiamo per qualche secondo. Andiamo a vedere le previsioni del tempo. Poi torneremo come sempre in studio. per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio. Seconda parte di Mattino 6. Dopo aver esaurito le pagine del centro. Siamo all'inserto Abruzzo del Messaggero. Seconda pagina di cronaca regionale. Si parla della scura. Su welfare il totale dei tagli. Supera i 250 milioni. I sindacati opposizione accusano. L'assessore regionale Sclocco. In pericolo soprattutto anziani non autosufficienti e bambini. E poi frenata sui fondi dell'Unione Europea. Abruzzo lontano dalla quota. Dei 180 milioni impegnati. E poi in basso il PD con il ministro Martina in campo per Renzi. Il vertice del partito. Si ricompatta. E poi il caso con il walzer dei dirigenti. Che penalizza la giunta. Siamo alla cronaca di Pescara. Consiglio vertice PD sul presidente. Il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Che dovrebbe prendere il posto di Antonio Blasioli. Che diventerà nuovo vice sindaco di Pescara. Al posto di Enzo del Vecchio. Che vedete nella foto. Che passerà alla regione. Chiamato dal governatore D'Alfonso. E il segretario provinciale del PD Ciafardini. Esorta il partito a fissare i criteri per la candidatura. E ricorda Pagnanelli. Abbiamo già chiesto un passo indietro. Presutti confida Nell sostegno in aula. Chi verrà eletto dovrà gestire le sedute. Sui più importanti lavori pubblici. E poi sversamento delle fogne al mare. Sotto inchiesta. Due dirigenti dell'ACA di Giovanni e Livello. Risultano indagati. La procura calcola 16 mila metri cubi. di reflui scaricati alla foce del fiume. Pardon. 161 mila metri cubi di reflui scaricati alla foce del fiume. E poi Museo delle Genti. Cambiando argomento. Marzetti dice i fondi per l'Aquila. Saranno impegnati per progetti. In arrivo e poi in basso. L'Abruzzo punta i pensionati americani. La nostra regione tra i posti migliori per la terza età. e la Camera di Commercio si mobilita. Noi ieri siamo andati in Camera di Commercio a Pescara per seguire questo incontro tra gli imprenditori abruzziesi e proprio questi giornalisti della più importante rivista americana dedicata alla terza età. Vediamo il servizio. Presidente Becci, oggi in Camera di Commercio a Pescara c'è un incontro di lavoro con giornalisti americani arrivati in Abruzzo per vedere come si vive nella nostra regione, come funziona soprattutto il servizio sanitario, ma non solo. Parliamo di giornalisti della più importante rivista americana dedicata alla terza età. Sì, assolutamente. Overseas è la rivista del Nord America più diffusa. Si rivolge a circa 500.000 persone che come ben diceva lei in fascia d'età alta quindi anche con una buona potenzialità di acquisto. Questa rivista attraverso l'editore è uno dei suoi giornalisti di punta che si chiama Kathleen Pedicor senza che nessuna la invitasse circa tre anni fa è venuta nel nostro Abruzzo ha verificato quello che era un po' la qualità della vita la bellezza della natura e ci ha posto in una prima inchiesta tra i primi 15 posti al mondo per qualità della vita più fruibili da parte questo tipo di utenza che sono gli anziani. E addirittura nell'ultima inchiesta che è stata fatta tre anni fa noi siamo al quinto posto per cui ci siamo sentiti in dovere perché sicuramente una rivista così importante che da noi è poco conosciuta ma negli Stati Uniti nel Nord America è molto diffusa ha messo in rilievo quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e la qualità dei nostri servizi che vede noi a tante volte disprezziamo invece stamattina e qui ci sono due giornalisti che sono venuti invitati da noi che abbiamo voluto premiare appunto questa rivista Miss Pedicor perché riteniamo che questi siano i migliori ambasciatori chi viene qui a visitare il nostro territorio e poi torna nel proprio paese e scrive a un pubblico come le dicevo con grandissime potenzialità Andiamo avanti sempre dalle pagine del messaggero foto e testimonianze ecco perché del turco è colpevole parliamo di cronaca giudiziaria perché la corte di Cassazione ha motivato la condanna dell'ex governatore Angelini dice la Cassazione è credibile nessun astio ma cade l'associazione approva reggina la consegna scrive qui il messaggero dei 200 mila euro a Collelongo in cambio della busta di mele e poi Migrantes la cultura dell'incontro mostra tre incontri con testimonianze alla Circo Laternino con Caritas centro per i servizi del volontariato e presidenza del consiglio comunale e poi la benedizione di Papa Francesco vedete questa foto ai balneari della Sib Conf Commercio trasferta abruzzese per gli aderenti alla Sib che sono stati anche in piazza San Pietro per incontrare il pontefice poi in basso Greta Panettieri apre un ricco weekend di spettacoli a Pescara per il fine settimana sotto il viadotto una discarica di Eternit la scoperta di guardia costiera e polizia municipale durante l'operazione di controllo di un fosso tra via Tirino e San Silvestro e poi notte di paura a Rancitelli in fiamme un furgone Ducato danni a due auto a Montesilvano rifiuti rimossi in via Rimini e sempre a Montesilvano aree edificabili arriva l'Imu e scatta la caccia agli evasori e poi a Pescara vela 40 giovani promesse a lezione da due assi della specialità infine penne città degli arazzi la tradizione torna in vita grazie ad una legge in arrivo in giunta siamo la pagina dell'Aquila del messaggero il Tar Cotugno non sicuro reperire una sede idonea accolto il ricorso firmato dei genitori bocciato il rientro nella sede di Pettino per ora niente ulteriori spostamenti scuola aperta fino a nuova soluzione e poi amministrative anche De Santis scende in campo per le primarie del centro-sinistra e poi invece Forza Italia nel guado l'Iris tentenna ipotesi convergenza su Pierluigi Biondi e poi Casa Pound imponenti misure per il corteo che si terrà sabato prossimo in basso giornate di primavera del FAI ecco gli appuntamenti in città e poi mancati sfratti chiesto maxi risarcimento progetto case in appello alla procura della corte dei conti insiste che gli amministratori devono rimborsare 12 milioni di euro siamo alla seconda pagina della cronaca dell'Aquila auto interattive e 5G il futuro è qui presentato il bando per la sperimentazione nel capoluogo della tecnologia di trasmissione dei dati ad altissima velocità e poi vieni in Abruzzo l'Aquila Rugby testimonial e l'iniziativa che è stata presentata ieri all'Aquila sulle maglie lo slogan l'appello del presidente Zaffiri la città ha ancora bisogno della palla ovale e poi case dell'Ater per i finanziamenti bisognerà attendere ancora un po' infine educazione fisica al vertice nazionale c'è l'Aquilano passa cantando siamo alla pagina di Avezzano Sulmona fucino l'irrigazione non la faranno i marsicani perché confraagricoltura accusa la regione di un ennesimo scippo affidati i lavori all'agenzia arabe non al consorzio di bonifica e poi cronaca per fare sesso ruba un'auto arrestato ad Avezzano e poi ad Antrosano arrivano i fondi per rifare le strade sul Mona l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia lancia l'idea di un laboratorio e poi il caso in trasferta ad Ostia scippa una donna identificata un avezzanese che usa il mezzo della sorella per rubare una borsa ancora a Sulmona in basso boom di parti la sfida del punto nascita un trend in rapida crescita che solo nel mese di marzo è più che triplicato siamo alla pagina di Chieti del messaggero pedofilia arrestato allenatore di baseball operazione della polizia le vittime sono tre ragazzini sotto i 14 anni il tecnico accusato di violenza e atti sessuali avvenuti tra il 2016 e il 2017 e poi la tragedia morto l'anziano caduto dall'albero e poi di spalla la vertenza case di riposo casse vuote ora e rischio pignoramenti e poi la vicenda di Megalo 2 ad aprire i lavori i commercianti dicono sarà guerra oggi la decisione della regione sul progetto WWF e associazioni di categoria dicono opera pericolosa e andiamo a vedere il servizio sulla conferenza stampa che c'è stata ieri a Chieti Il progetto Megalo 2 di Chieti Scalo continua la sua marcia di realizzazione nonostante le proteste e le denunce di commercianti ambientalisti che continuano a chiedere l'abolizione di un progetto che impoverirà ancora di più il comparto commerciale dei piccoli esercenti del centro città e anche quelli prossimi alla sede dello Scalo da canto loro gli ambientalisti avevano da sempre lamentato la pericolosità ambientale del sito e il rischio idrogeologico evidente ad ogni pioggia più intensa oggi a 24 ore dal pronunciamento del comitato Via associazioni di categoria ambientalisti si sono uniti per ribadire la contrarietà al progetto ed ottenere uno stop ai lavori noi abbiamo presentato delle osservazioni al comitato Via dove sostanzialmente diciamo che oltre alle autorizzazioni edilizie del caso c'è bisogno anche delle autorizzazioni commerciali che in qualche modo sono stabilite dalla legge regionale sul commercio siccome questo iter non è stato attivato riteniamo che in qualche modo bisogna tornare alla conferenza dei servizi per esaminare bene se ci sono tutti i presupposti per autorizzare le superfici in quanto superfici di vendita tutte le associazioni di categoria del mondo del commercio del mondo dell'artigianato ci sono i consorsi di via che animano in particolare la città di Chieti e poi soprattutto ci sono le due associazioni ambientaliste WWF e Legambiente che in qualche modo con cui in qualche modo abbiamo unito le forze proprio per condurre questa battaglia chiaramente Megalò per il nostro punto di vista rappresenta un'opera dannosa per la salute pubblica ma in ogni caso visto il coinvolgimento di tutte le altre forze attive e sociali della nostra città è anche un danno per loro per le attività quindi un danno economico ancora dalle pagine del messaggero il dramma della pugilessa ferita durante un incontro di pugilato fortunatamente le sue condizioni migliorano intanto scattano altri sequestri nell'ambito dell'inchiesta sul malore che ha colpito la pugilessa andiamo avanti pagina di Lanciano Vastortona strade e scuole sicure nel bilancio 2017 stanziati 2 milioni il sindaco di Lanciano Pupillo dice abbiamo confermato l'impianto generale della nostra azione amministrativa nonostante i tagli e poi ancora Lanciano la vicenda del bambino autistico problema risolto ma dalla mamma nessuna risposta e poi Vasto in alto chiuso ponte a rischio sopra l'autostrada a 14 e poi ancora Lanciano performance di Spinelli per i trattati di Roma sono onorato dice Spinelli che la mia musica simbolo di pace sia stata scelta per questa occasione storica e poi di nuovo Vasto Fossanghella come risorsa ambientale Ivo Menna lancia un'idea innovativa per valorizzare il sito infine Ortona mercato chiuso scatta la protesta siamo la pagina di Teramo del messaggero compagna di scuola denudata 6 minorenni sotto inchiesta è successo durante una cena in pizzeria in un locale della città Branco in azione hanno tutti 13 anni e frequentano le medie la procura acquisisce le foto scattate su Whatsapp e poi Corso De Michetti colpito da portavetri di un Deor ottiene maxi risarcimento di 171 mila euro e poi Corso San Giorgio al lavoro domenica Darui finora promesse tutte vane e poi Val Vibrata la cronaca presa a martellate per problemi economici è successo nella notte a Martinsicuro in azione due fratelli marocchini la vittima è grave siamo alla pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata palpeggia ragazza sul treno nigeriano finisce in manette era sola in un scompartimento quando è stata avvicinata dall'uomo di colore a salvarla due agenti della Polfer Giuliesi aggredito controllore di Giulianova che poi finisce ricoverato in ospedale ancora Giulianova non passa la mozione Arboretti mentre per quanto riguarda la cronaca è stato trovato morto in casa un uomo colpito da un infarto mentre era in bicicletta Martinsicuro elezioni comunali la foglia candidata del partito democratico siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine interne del quotidiano la città per poi chiudere con lo sport sport che ovviamente vi ricordo non vedrà domenica la disputa delle gare del campionato di Serie A per la sosta del campionato ma giocherà il Teramo giocheranno le altre squadre di Serie D allora terza pagina del quotidiano la città cronaca regionale trave a rischio chiuso un cavalcavia in A14 a basto poi Chieti allenatore di baseball arrestato per violenza sessuale su tre giocatori minorenni e poi strada dei parchi i sindacati scioperano per il taglio del personale ai caselli in basso masterplan De Vincenti sottosegretario alla presidenza del consiglio torna in Abruzzo per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori Teramo abusata dai bulli nel bagno della pizzeria tredicenne Teramana spinta malmenata palpeggiata e denudata e poi fotografata da sei coetanei terribili in basso Giulianova universitaria palpeggiata in treno da un nigeriano brutto episodio in uno scompartimento dell'Intercity Bari-Bologna il molestatore è stato arrestato dalla Polfer proseguiamo strappato l'accordo sulla casa dello studente siamo a Teramo il deputato Ginobile annuncia che oggi il progetto passerà tra gli emendamenti al decreto terremoto Patto Gatti Ginobile per Fieni al BIM il 35enne di Isola piace ai sindaci PD il centrodestra punta ad ottenere strapuntini di rilievo e poi le ordinanze e a Teramo sgomberate altre 12 famiglie a causa del terremoto dubbi sull'inconferibilità dell'amministratore delegato della Teramo Ambiente per Dalberto del PD il colonnello Pelagatti non potrebbe nemmeno percepire un compenso intanto per quanto riguarda il prossimo consiglio comunale è stata scelta la sede dell'ipogeo infopoint al comunale si parla sempre di cronaca di Teramo oggi verrà presentata la stagione di prosa con quella della Riccitelli Teramo ne avrà due e poi quartiere Cona Giardini nel caos denuncia anche la De Santis e poi progetto pari da illuminazione pubblica via al nuovo piano da 12.000 pali cronaca della provincia crolla una mensola del balcone municipale a Montorio Alvomano paura all'ingresso di via Gramsci e poi a Campli avviati i lavori per sistemare i giardini proseguiamo cronaca della Val Vibrata lite in piazza Cavour il committente non paga il lavoro in due lo prendono martellate ricoverato in gravi condizioni all'ospedale poi colonnella agricoltore 78enne ferito nell'incidente con il trattore in contrada civica a Tortoreto l'asilo delle suore sfratta il circo i locali del vecchio focolare di Terra Bianca ospiteranno i bimbi della scuola dell'infanzia paritaria sgomberata per il sisma e poi in basso a Martinsicuro si parla di elezioni amministrative Elisa Foglia sindaco nuove leve nella lista del Partito Democratico andiamo avanti pagina di Giulianova Mosciano partiamo proprio da Giulianova militare della Guardia Costiera salva un giovane dal suicidio al Mononord e poi settantenne Giuliese trovato morto nella sua abitazione un malore dopo probabilmente era andato con la bici come abbiamo visto anche dalle pagine del messaggero e poi scissione freddina per Mastromauro quattro consiglieri passano con articolo 1 che resta saldamente in maggioranza con il Partito Democratico e poi in basso Scuole Sicure il sindaco rilancia l'idea del polo sui terreni di via Cupa siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi si allarga l'inchiesta sui permessi alle brasiliane siamo a Notaresco in questo caso oltre ai vigili e dipendenti comunali nel mirino della procura una società di intermediazione della costa e poi caso risolto a Notaresco Enel garantirà l'erogazione della corrente alla madre di Contrada Giardino e poi in basso dramma in autostrada incidente mortale dell'altra sera è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale proseguiamo siamo arrivati alle pagine della cultura e dello sport allora già che ci siamo vediamo la pagina dello sport della città dedicata al Teramo con l'intervista all'ex portiere Teramano Tonti e l'amore mai finito lì dice Tonti ho lasciato il cuore possiamo andare a vedere le pagine dello sport dal centro e dal messaggero partiamo dal centro per vedere quali sono le notizie più importanti che riguardano soprattutto in questo caso il Pescara Pescara che si concentra soprattutto scusate il gioco di parole sulla prossima stagione Pescara che molto probabilmente nella prossima stagione nel prossimo campionato giocherà in serie B il Delfino che verrà il Pescara riparte dalla carica dei 50 questo è il titolo del centro tanti giocatori sotto contratto Zeman riflette sul futuro vediamo un attimo in questo specchietto quanti giocatori sono sotto contratto nel Pescara davvero tanti con Fiorillo Fornasier Coda Bovo Biraghi Stendardo Crescenzi Zampano Vitturini Malocu Brugman Colibali Memushai Bruno Benali Del Sole Mitriza Proietti e Mancuso questi ultimi due acquistati di recente hanno il contratto in scadenza a giugno invece il portiere Bizzarri poi Aldegani Campagnaro Montari Pepe e Gilardino fra questi probabilmente al massimo un paio di giocatori resteranno a Pescara tantissimi invece i giocatori che rientreranno dal prestito nelle varie squadre Pigliacelli Castrati Calore Mazzotta Zuparic Aquilani Iorio Cocco Bulevardi Forte Barba Selasi Perrotta Orlando Altobelli Carcalis Giovani che giocano soprattutto nella nostra regione Di Sabatino Mancini Di Nicola Benassia Paolucci Ventola Polidori Nicastro attaccante del Perugia che sta facendo molto bene in Serie B con la formazione Umbra Di Massimo dalla San Benedettese Pettinari dalla Ternana e Testi andranno via per fine prestito Baybec che tornerà al Paris Saint Germain Cerri e Castanos alla Juventus Smuric all'Ajax Cubas al Boca Junior Caprari all'Inter e Verre al Sampdoria e vedete in basso c'è Italia Albania sfida tra Verratti e Memuschai domani sera a Palermo si gioca alle 20.45 questa importante gara per le qualificazioni e i mondiali e di fronte ci saranno il giocatore del Paris Saint Germain idolo dei tifosi pescaresi e l'attuale capitano del Pescara L'Edihan Memuschai andiamo avanti Taranto aggressione ultra giocatore abruzzese in fuga ci inseguivano con i coltelli parlano di Nicola e Paolucci ventenni di proprietà del Pescara sotto shock dopo il ride dei tifosi pugliesi la squadra è stata costretta a rintanarsi a rifugiarsi negli spogliatoi e poi in basso ieri in Lega incontro per i diritti tv non c'è però accordo era presente il presidente del Pescara Sebastiani che dice serve una ripartizione più equa altrimenti le big giochino da sole e poi il Teramo Teramo che si spacca sul futuro Campitelli deve restare tifosi e VIP Teramani dicono la loro sul patron del diavolo intanto la squadra si prepara la gara di domenica al Martelli di Mantova con Ugo Lotti pronto a confermare il 4-4-2 in basso il basket con la vittoria della meta Teramo nel recupero di campionato Teramani che sono passati in casa della Stella Azzurra per 74-72 e poi stangata per l'Aquila siamo alla serie D porte chiuse al Gran Sasso rosso-blu puniti per le intemperanze dei tifosi in trasferta Sansepolcro domenica si giocherà senza pubblico ma la società ha già inoltrato il ricorso e poi Coppa Italia di eccellenza nazionale Tris del Paterno la formazione sarda del Tortoli KO ora in semifinale ci sarà la sfida ai siciliani del Troina Paterno che ha battuto il Tortoli per 3-1 e poi una notizia che riguarda il calcio di promozione e la sfida che può valere l'eccellenza e il ritorno in eccellenza del Giulianova perché Torrese e Giulianova si giocherà domenica prossima sul campo di Castelnuovo Vomano andiamo ancora avanti Coppa Italia oggi scattano le Final 8 di calcio a 5 c'è il rischio derby tanto per cambiare fra pescare acqua e sapone a Tolentino e Biancazzurri sfidano Imola nei quarti nerazzurri dell'acqua e sapone contro il caos Ferrara in caso di vittoria di entrambe sabato sarà semifinale al pala Giovanni Paolo secondo di Pescara in basso il basket di serie A2 Roseto pronta la trappola alla fortitudo sabato 12 ore 14 al pala Maggetti gara delicata in chiave playoff e poi invece in casa Proger il coach Bartoggi ordina Proger ripartiamo chieti lunedì nella tana del Recanati Davis rientrerà contro il Verona e poi Zaffiri l'Aquila da domenica si chiamerà Abruzzo il presidente dice vogliamo promuovere la nostra regione giornata neroverde per lo scontro al vertice con i Medicei ieri a tal proposito su questa iniziativa vi avevamo proposto un servizio proprio nel corso del TG6 possiamo passare prima di chiudere alle pagine dello sport del messaggero anche sul messaggero si parla di Pescara di futuro soprattutto e dell'impiego di qualche ragazzo nelle ultime nove giornate di campionato l'intervista all'ex direttore sportivo del Pescara Nucifora che dice Zeman sarà il valore aggiunto di una squadra giovane l'ingaggio di Mancuso è un ottimo inizio ancora Nucifora che ha detto il boemo è la dimostrazione che il calcio non è cambiato nel 2017 applica ancora con successo le idee che aveva nel 1988 e poi la palla a volo maschile di Serie A2 con la secortona che vede la salvezza questa sera sfida importantissima con il Grottazzolina e poi tornando al Pescara sul mercato la società Bianca Azzurra ha messo gli occhi su Donnarumma del Mantova Mantova lo ricordiamo prossimo avversario di campionato del Teramo e poi il basket di Serie A2 parla mei e dice questo roseto ha motivazioni pazzesche siamo acciaccati ma vogliamo i playoff e con la fortitudo serve lo spirito del secondo tempo contro Chieti e poi il Teramo calcio la Lega Pro l'ex Tonti dice affrontare il Teramo sarà un'emozione di fronte domani domenica pardon a Mantova ci sarà l'ex portiere teramano che ha lasciato il cuore in Abruzzo e poi Pescara Acqua e Sapone all'assalto della Coppa inizia oggi la final eight con le due abruzzesi grandi favorite Bianca Azzurri contro Imola lo abbiamo visto anche e prima per i Nerazzurri c'è la sfida con il caos e poi serie D l'Aquila stangata da giudice sportivo domenica prossima gara di campionato senza pubblico allo stadio Gran Sasso e poi Coppa Italia di eccellenza nazionale il paterno avanti in Coppa batte 3 a 1 Tortoli ed è in semifinale e poi in basso la gara decisiva tra Giulianova e Torrese si giocherà sul neutro di Castelnuovo Romano in caso di vittoria Giulianova festeggerà la promozione e poi il basket di serie B per Milina e il Campli la favola continua secondo in classifica fra mille problemi davvero ottima la stagione del Campli secondo in classifica nel campionato di serie B nonostante le tante difficoltà dovute al maltempo con tante gare rinviate per la formazione Farnese e anche per i tanti infortuni che hanno colpito la formazione del Campli siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con la nostra consueta rassegna stampa mattino 6 tornerà come sempre domani alle 7 ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento per la prima edizione del nostro telegiornale oggi alle 14 come sempre grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie Grazie a tutti.